ciao amici e benvenuti da dj mister quindi oggi un dvd portatile che registra sia dvd che cd masterizza con usb 2.0 dal costo diciamo buono rapporto qualità prezzo andiamo a vedere l'interno della confezione ci è arrivato in questo cartoncino all'interno troviamo una manualistica solo in inglese che ci dà i consumi la compatibilità ma alla fine del video vi farò vedere che è compatibile anche con l'ultimo windows 10 infatti qui vedete un pezzettino del mio portatile bella la parte estetica davvero ben fatto ben costruito niente da dire buone le plastiche sia sulla parte inferiore che sono semi lucide molto carina questa soluzione di avere la micro la usb il filo usb che si integra e questa è una soluzione ottima per essere portato sempre in mobilità sulla parte superiore abbiamo questa finitura satinata simil metallo ma è completamente in plastica vi parlo di dimensioni che su 19 di altezza per 16,6 di larghezza per 4,4 cm di spessore un peso 281 grammi ben distribuito molto leggero molto portatile permette di masterizzare di una lettura una masterizzazione sia di cd che di dvd la velocità di scrittura soprattutto per la parte dei dvd non legge e masterizza blu-ray è di 8 per un po lentina invece normale standard diciamo più o meno quella da 24 per masterizzare i cd per quanto riguarda invece la funzionalità ve lo faccio vedere tiriamo fuori si va ad incastrare all'interno se non spaccio nulla cerchiamo di tirarla fuori da qui faccio vedere io ho un windows 10 cerchiamo di collegarlo ve lo mostro in live allora un windows 10 è perfettamente funzionale inseriamo il dischetto ok non ho dovuto installare niente nessun driver assolutamente appena inserito era perfettamente già funzionale e compatibile comunque il prezzo abbastanza buono forse qualche euro in meno non ci sarebbe dispiaciuto però belle le finiture buona la qualità costruttiva e la compatibilità avete visto anche con windows 10 perfettamente funzionale io con questo vi ringrazio di avermi seguito vi do appuntamento alla prossima videoprova